Nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati 652.641 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato a percorsi di artennanza scuola-lavoro, uno strumento sempre più necessario per avvicinare il mondo dell'impresa a quello dell'istruzione, offrendo al tempo stesso sbocchi occupazionali ai giovani e personale qualificato alle imprese. In questo solco si è inserito il premio intitolato alla memoria dell'ingegnere vastese Mario Molino, volto a premiare l'impegno e le capacità dei giovani aiutandoli ad inserirsi nel mondo produttivo. Mirko Dipenta e Michele D'Aloisio, studenti del Mattei di Vasto, sono stati premiati con uno stage lavorativo alla Denso. Per noi è particolarmente importante dare ai ragazzi delle opportunità per accrescere le loro competenze all'interno dell'azienda in quanto abbiamo bisogno nel futuro di persone che siano oltre che dotate delle conoscenze necessarie anche della possibilità di aver messo in pratica queste conoscenze. Lo scorso fine settimana nell'aula magna dell'Istituto Superiore di Vasto, la famiglia dell'ingegner Molino, in collaborazione con il dirigente della scuola Rocco Ciafarone, Marco Mari e Rosanna De Filippis dell'ufficio del personale della Denso e i rappresentanti dei Club Lions Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Colonna, hanno voluto ricordare la figura dell'ingegnere attraverso l'offerta di uno stage formativo ai due migliori allievi della sezione elettrotecnica dell'Istituto. Il loro contributo è stato notevole perché si sono distinti in applicazione l'impegno e hanno ricevuto i complimenti dell'azienda che è stata interessata anche a proseguire un'esperienza del genere.